Due neonati positivi al covid-19 sono ricoverati presso il reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santo Spirito di Pescara. Hanno meno di un mese i piccoli pazienti covid assistiti nel reparto. L'infezione da SARS-CoV-2 non riguarda dunque unicamente la popolazione adulta e anziana ma anche l'età pediatrica e neonatale. La variante Omicron del covid ha determinato un aumento importante dei contagi ed una categoria molto esposta alle infezioni anche quella del tutto priva di immunizzazione ovvero quella dei neonati. Per questo motivo la dottoressa Susanna Di Valerio direttore dell'unità operativa complessa di terapia intensiva e neonatologia dell'ASL di Pescara invita tutti ma soprattutto le donne in gravidanza e le neomamme ad aderire alla campagna vaccinale. Vi voglio tranquillizzare perché le condizioni sono assolutamente migliorate uno dei due piccoli pazienti ha già sospeso la terapia ventilatoria l'altro sta assolutamente andando bene anche se ancora supportato da una minima assistenza ventilatoria. Il primo paziente che adesso a casa è nato da una donna covid positiva ed è il primo che vediamo di neonato covid positivo perché nella prima pandemia non avevamo avuto questi pazienti. Gli altri due sono arrivati in pronto soccorso per febbre e difficoltà respiratoria. Naturalmente per entrare in reparto c'è la necessità di effettuare un tampone e il tampone covid positivo è venuto positivo e quindi sono state messe in atto tutte le cure del caso. Insomma in questa occasione lei dottoressa vuole fare anche un appello alle donne alle madri che è quello di vaccinarsi? Assolutamente sì bisogna che le mamme si vaccinino la scienza ci ha dato quest'arma che è fondamentale per contrastare il virus e quindi sicuramente la preghiera è quella di vaccinarsi. Stiamo entrando nella fase più complicata diciamo di questa pandemia c'è il rischio insomma che questo virus omicron possa colpire un po' teneretà. È evidente di sì certo non è che Pescara adesso possiamo fare una statistica sui piccoli numeri però quello che vi posso dire è che nella prima ondata pandemica noi non abbiamo avuto di queste situazioni non abbiamo avuto neonati ricoverati covid positivi invece adesso negli ultimi 15 giorni sono tre e quindi cominciamo a pensare che qualcosa stia cambiando.